Premetto che questo video lo faccio in diretta perché così sono da anni che si parla praticamente della possibilità di modificare il meteo, tutti sappiamo che è sempre stato negato, c'è una bellissima playlist Geo Ingegneria. Ecco vi ricordo fra l'altro che da un po' di tempo non vedete i video qua perché per scelta personale ho preferito portare avanti il secondo canale per chi è interessato così sono minori le persone e portare avanti The Secrets of the World, un canale che parla e parlerà di energia eccetera. Al di fuori di questo, questo che vediamo è sul traduttore automatico Weather Modification Association, associazione della modificazione del cambio climatico, perciò esiste, libero scambio di informazioni accurate riguardanti l'efficacia, la sicurezza, la metodologia e l'economicità delle attività di modifica del clima. Se sentite qualche clap clap è perché c'è il taglialegna fuori che sta secando la legna. Notizie ai prossimi eventi, le ultime novità riguarda il settore sedie, pianifica la partecipazione alle conferenze varie, qua sono tutti i progetti che ci sono già attivi, clicco su uno a caso e mi dice che è dell'Upper American River Snow, praticamente riescono a modificare tutto. Vediamo cos'è il cloud seeding, l'inseminazione delle nuvole in italiano. La modifica meteorologica può essere sia pianificata, come nel caso del cloud seeding, sia involontaria, ad esempio quando l'inquinamento influisce sulla visibilità. La modifica meteorologica pianificata, deliberata, è anche comunemente nota come semina delle nuvole, modifica delle nuvole o gestione dell'acqua atmosferica. Secondo voi perché hanno fatto questo? Perché troppe persone hanno capito che esistono effettivamente le scie chimiche, punto a capo, per quanto si possa dire che è una teoria. La teoria, vedete che non è più una teoria, ma esiste. Come funziona il cloud seeding, o comunemente indicato come modifica del tempo, è il trattamento di singole nuvole o sistemi nuvolosi nel tentativo di ottenere l'effetto benefico desiderato. Benefico per chi non si sa, non è detto che sia per la popolazione, inclusa la mitigazione di nebbia e grandine, cioè la nebbia è a terra ragazzi, la grandine invece viene giù dal cielo, e precipitazioni aggiuntive sotto forma di pioggia o neve. Il cloud seeding viene condotto da terra tramite velivoli mediante razzi pirotecnici e o generatori di combustibile liquido. Si prega di visitare la pagina delle domande frequenti per ulteriori informazioni sui concetti. Se si chiama cloud seeding, vuol dire che è inseminazione delle nuvole, non che ci sparo sotto da terra, ok? È efficace, si può avere successo, la gente dissemina e le metodologie utilizzate nelle operazioni odierne sono state sviluppate e perfezionate nel corso di 60 anni. Cioè sono 60 anni che dite che non modificate il meteo e adesso invece praticamente dite che da 60 anni lo state facendo. Quando avevo 10 anni mi ricordo che sparavano alle nuvole, praticamente allora da terra quei raggi. Gli studi hanno dimostrato che alcune nuvole o fasi di sviluppo delle nuvole sono suscettibili al seeding mentre altre no. Batte la pesca. Vari analisi mostrano varie chissà che analisi. Le tecnologie semina delle nuvole possono aumentare le precipitazioni stagionali su tutta l'area del 5% o del 15% e supprimere la grandine dannosa del 25% e del 75% se applicate efficacemente alle nuvole adatte. Cioè devono andare a cercare delle nuvole, qui sto solo facendo del negazionista, del sì sono un negazionista, no sono un ricercatore di verità. I progressi nelle elaborazioni dei dati e radar e nelle tecniche di valutazione stanno contribuendo a fornire ulteriori informazioni sull'efficacia dell'inseminazione delle nuvole, cloud seeding. È sicuro per l'ambiente? Certo, non vorrete mica che facciamo una cosa della modificazione del meteo e diciamo che non è sicura. La letteratura scientifica pubblicata mostra chiaramente che non sono stati rilevati effetti dannosi per l'ambiente derivanti dall'inseminazione di nuvole con aerosol di ioduro d'argento. Cioè lo ioduro d'argento lo dovete mollare sopra le nuvole, non potete spararlo in su, né ci si aspetterebbe che si verifichino. Non possiamo aspettarci che faccia male, comunque è una qualsiasi iniezione che facciamo anche all'essere umano, no? Dico bene? È buona, è brava, è buonissima, fa bene, dovete farvela, iniettate, iniettate tutto. Sulla base di questo lavoro la WMNA, Weather Modification Association, ritiene che lo ioduro d'argento, ritiene, non sta scrivendo, dice, ritiene che lo ioduro d'argento sia sicuro per l'ambiente, poiché è attualmente utilizzato nella conduzione di programmi di semina delle nuvole. Fare clic sul collegamento, possiamo anche fare clic, ecco qua, invece ce l'abbiamo, è un documento, è come fosse un documento della NASA, tutto funziona perfettamente, tutto è bellissimo, di conseguenza noi non dobbiamo assolutamente preoccuparci, perché questo è un sistema che funziona, dovete venire a vedere alle notizie recente, prossimi convegni associativi, Denver, eccetera. Praticamente ci sono delle associazioni per la modificazione del meteo. Ciao ragazzi, buona giornata. Ah, non preoccupatevi, quelle che vedete sopra, che lasciano gli aerei, che adesso non sono più larghe in questi giorni, ma rimangono un po' strette per un po', vuol dire che hanno cambiato tutto. Praticamente non c'è più alcun dubbio. Se volete vedere altri video che riguardano tutte queste cose, che belle facce, ricordatevi che c'è l'importante playlist di Geo Ingegneria, è alla faccia di sto cavolo che non esistono le scie chimiche, che bello, meraviglioso. Guardate quanti che sono. Soldi, 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 per raccontarci che tutto ciò che fanno è sicuro. Sicuro, non preoccupatevi, mangiate le cavallette, tutto è sicurissimo. Mistero del credo.